Molto di più gli uomini che paradossalmente gradiscono una vita da single e sono meno le donne che gradiscono una vita da single. Questo capita per quale motivo? Beh, proprio per una filogenesi fondamentalmente dell'essere umano, dove le donne hanno questo discorso, questa volontà di mettere su famiglia. La famiglia, come modo per vivere una forma di vita, è più legata ai figli. Salutiamo Peppe Rosa, vediamo se fa il suo dovere e si guadagna lo stipendio che le pago. E cerchiamo quindi di capire quali sono questi motivi per cui donne da 35 a 50 anni sono ancora single. Salutiamo Peppoli, perché poi diciamo che, vabbè, prima dei 35 anni magari una donna potrebbe anche al giorno d'oggi volere essere single, anche se già a 35 anni è un coso, diciamo, un'età avanzata, però potrebbe volere ancora essere single. Però da 35 anni, diciamo, poi invece probabilmente le donne non vogliono più esserlo perché vogliono, vogliono, diciamo, e vogliono, come dire, lo stipendio sarà salatissimo, ti darò un chicco di sano, un chicco, un chicco di sale grosso, rompi i coglioni. Salutiamo anche Peppoli. E facciamo già che ci siamo, ancora un giro di campana per la nostra bambola, che non l'ho più fatto prima, adesso farò tutti i giorni, ma anche più di uno, un giro di campana per la nostra bambola e anche per l'amica di Roxy Rosa. Quindi un giro di campana per la bambola e per l'amica di Roxy Rosa, che stanno male, ma si riprenderanno presto. E la nostra bambola tornerà a romperci le balle qua. Allora, bene, bene, allora, comunque sia, andiamo avanti. Allora, beh, quindi diciamo che al di sotto dei 35 potrebbero volere essere single, al di sopra dei 50 diciamo che una donna ha perso ogni speranza, no, di crearsi, salutiamo la nostra guinetina, Green Apple, spesso molte donne over 50 non hanno più voglia di crearsi una famiglia, anche perché, diciamo, non dico che hanno perso del tutto ogni speranza, però certo che una donna over 50 magari non ha più voglia di creare un nucleo familiare, non ha più voglia, quindi il nucleo dove una donna ancora ha questa esigenza forte, diciamo, di avere una relazione, crearsi una famiglia fondamentalmente, è tra i 35 e i 50 anni il nucleo forte. Poi, allora, quali sono le motivazioni per cui oggi più di ieri le donne belle, anche belle, intelligenti, di 35 e i 50 anni non trovano più la persona giusta? Quali sono? Allora, il primo è che forse sono le aspettative elevate. E' vero che bisogna alzare l'asticella, però oggi vogliono tutte superman, cioè questo è un punto fondamentale, no? E il maschio da questo punto di vista si sente, si sente un po', no, lo vogliono, lo vogliono, però diventa una sorta di narcisismo, no? Loro magari vogliono superman. Salutiamo Manuel, vogliono, cercano qualcuno che abbia un elevato livello di intelligenza, un alto livello di successo, un alto livello di valori personali, e quindi è ovvio che il numero dei possibili candidati idonei si restringe. E questi candidati idonei, idonei che rimangono, probabilmente non vogliono loro, probabilmente cercano donne più giovani, probabilmente cercano donne diverse, e questo è un punto fondamentale. Le aspettative elevate è un qualcosa che spesso frega. Un'altra motivazione più, potremmo dire, psicologica, se vogliamo, più legata agli imprinti, ma anche al vissuto, sono le esperienze passate. Sono le esperienze passate. Soltiamo Crazy Robbie, il re della balera. Sono le esperienze passate. Molte donne tra i 35 e i 50 anni hanno vissuto relazioni significative che non hanno funzionato. E quindi hanno, magari anche prima dei 35 anni, o comunque queste relazioni, hanno lasciato dei segni emotivi profondi. Queste esperienze del passato possono influenzare significativamente il loro approccio nelle relazioni. dicevo, over 50 poi, diciamo, hanno perso ogni speranza del tutto, perché fino a 50 anni hanno ancora la speranza ma non riescono. Poi le donne over 50, se sono single, contano di rimanere perché hanno proprio perso la speranza, perché è ovvio che una donna di magari 55-60 anni non ha più speranza di trovare un compagno, una compagna, no, hanno perso totalmente. C'è la canzone dei Coldplay. I'm not looking for somebody with some superhuman gifs. Ah, io non sto cercando qualcuno, io non sto cercando qualcuno con, come superhuman, con doni superumani, io non sto cercando qualcuno con doni superumani. mi sembra di aver capito questo, io non sto cercando, io posso girare to somebody with a kiss, io posso cercare qualcuno che posso baciare. Quindi comunque sia, diciamo, secondo me invece molte donne hanno delle aspettative, trovatevi il catramista e non rompete i coglioni, cioè cercate qualcuno, prendetevi di solito catramista, che tanto più fate le sofisticate, più cadrete poi nelle grinfie del catramista. Poi comunque dicevo, le esperienze passate possono influire, no? Queste esperienze, salutiamo la carampagnocca perotti, queste esperienze passate, diciamo, nelle donne tra i 35 e i 50 anni hanno lasciato segni emotivi profondi, no? Per cui dopo uno ha più relazioni fallite, magari anche intorno ai 35 anni, anche ai 30 anni, cercano di diventare più caute, no? Ad aprirsi a nuovi partner. E questo aumento della cautela li spinge a trovare difficoltà, diventano anche, hanno un bagaglio emotivo pesante, ecco, diciamo che hanno un bagaglio emotivo pesante. Questo bagaglio emotivo pesante gli produce difficoltà, diciamo, hanno dei meccanismi difesa alti, è un bagaglio emotivo pesante che genera autoprotezione fondamentalmente. Però, ripeto, le aspettative irrealistiche ci sono, è il primo punto. Cioè, le delusioni passate talvolta possono anche portare ad aspettative irrealistiche, no? Idealizzano, vogliono il partner perfetto. Questa ricerca del partner ideale può ostacolare la capacità di apprezzare e coltivare relazioni. Paradossalmente è più facile per donne over 50, no? Perché le donne over 50, non dico che si accontentano di più, ma hanno meno aspettative. Perché è ovvio che quando una donna arriva a 50, 60 anni o oltre, magari ha molte meno aspettative, no? Non va più a cercare Superman, va a cercare una persona normale, cerca di catramista perfetto. Queste, tra l'altro, spesso esperienze passate forti possono anche portare a una paura dell'intimità, un po' come negli uomini, magari avere una paura dell'intimità fondamentalmente. Questo è un punto fondamentale, no? Comunque sia il secondo punto, secondo me, le esperienze passate influisce molto. Poi, ovviamente, c'è un cambiamento anche di stile di vita. Perché ieri, probabilmente, ieri intendo anni fa, probabilmente le donne erano meno autonome e meno indipendenti. Oggi, tutto sommato, soprattutto da un punto di vista materiale, diciamo che molte donne hanno sviluppato autonomia e indipendenza. Quindi, donne che magari sono anche, come dire, indipendenti, autosufficienti, belle, diciamo che queste eccessiva, sviluppano un'eccessiva sicurezza verso se stesse. Questo può, diciamo, impaurire, per certi versi, potenziali partner, no? C'è una diminuzione anche del maschio che potrebbe addirittura essere impaurito e, insomma, andarsi a cercare donne meno, salutiamo Rosi, la nostra capra, la nostra capra Rosi, la capretta Rosi. Che sei in ritardo sul posto di lavoro, anche tu. Io non lo so, tutte queste assenteiste. La Gina Decazza non si è neanche presentata all'appello. Appena arriva l'accazio di brutto. E questa arriva in ritardo, il video prima non c'era. Salutiamo anche Lorenzo. Poi c'è un altro fatto fondamentale, ai 21 anni, beato te, cioè no, beato te, no. C'è un altro fatto fondamentale, no? Che, diciamo, le donne, ecco, c'è una cosa interessante, questa è interessante. Le donne tra i 35 e i 50 anni, mentre una volta non avevano problemi a trovarsi partner, a trovarsi partner, che... Eh, ma infatti Rosi l'ho assunta, l'ho assunto anche Rosi. A lei pensa che le do come stipendio un granello di sale grosso, perché lei ha detto che accetta ma vuole uno stipendio salato. Per cui l'accontentiamo e come stipendio le do un granello di sale grosso. Allora, stavo dicendo, però Rosi non capisce una minchia, cioè nel senso che sente bene, sente male. Lei c'è una linea già di suo che fa schifo, quindi quando sente male lei non è detto che si senta bene, che si senta male veramente. Comunque sia, questo è interessante, no? Oggi queste donne, diciamo, 35 e 50 anni vogliono un coetaneo, vogliono un uomo coetaneo, spesso. Cioè cercano un uomo tra 35 e 50 anni. Cioè se ha 35 anni cerca un 35enne, mentre una volta una donna di 35 anni le andava bene anche uno di 50. Ah, talvolta anche uno di 60. E questo è un punto fondamentale. Perché gli uomini di magari di 35 anni non vogliono la 35enne, vogliono la donna di 25. Cioè in linea di principio, che vi piaccia o che non vi piaccia, un uomo cerca una donna, cerca una donna di, diciamo, 10 anni più giovane. Poi è ovvio che il toyboy, adesso non so se è Lorenzo, ha veramente 21 anni. Poi è ovvio che il toyboy di 21 anni cerca una donna di 35-50. Ma mica per averci una relazione, per avere del sesso, a meno che abbassano il dispendio energetico, oppure per avere una che, che ne so, che gli dà qualcosa fondamentalmente. Questo è un altro caso. Il toyboy ventenne cerca le donne di quell'età lì, ma semplicemente è mica per avere una storia. Qui parliamo di persone che cercano una relazione sentimentale, insomma, un po' stabile. Quindi una donna, una donna, e vedi ad esempio Rosi che ha 66 anni, cerca un uomo dai 48 ai 60. Ma dove volete che, questa ha 66 anni, Rosi, dove volete che trovi un uomo tra i 48 e i 60? Rosi deve trovare un uomo dai 75 in su. Cioè per Rosi, cari 75 anni, cari 80 anni, fatevi sentire, fatevi, ma che 46, 46. Ma dove, di Galera c'è il 46, di Galera ce n'è il 46. 46 sono di Galera, adesso è uscita fuori. Ma che da badante è da badante, ma che badante è badante. Quindi, cari uomini, over 75, se volete trovarvi una 66enne, andatevi a trovare Rosi, andatevi a trovare Rosi. Rosi, che va benissimo. Però, e questo è un altro problema, no? Oggi le donne vanno alla ricerca di un coetaneo, no? Vanno alla ricerca di un coetaneo. Invece, non serve un coetaneo. Dovete trovare uomini di 15, 20 anni più grandi. Allora sarà più facile. Ma perché un uomo di 50 anni, non è che si cerca quella di 50. Un uomo di 50 anni si cercherà quella di 35. E il discorso è quello, no? Un uomo normalmente, più va su con l'età, diciamo che cerca una donna magari di 15 anni più giovane, 15, 20 anni più giovane, 15 anni fondamentalmente. E quindi questo porta al fatto che, vabbè, 15 anni, insomma, 15 anni, dai, 15 anni vanno bene. Bene, e questo è il discorso che oggi molte donne, quindi restano da sole perché troverebbero, ma più grandi di loro. Come ad esempio la nostra Rosi trova gli ottantenni che sarebbero disponibili, ma lei li vuole più giovani, no? E per Rosi, Rosi, dai 75 in su tutto è buono per te, eh? Cioè, è ovvio che se una come Rosi, che ha 66 anni, ne vuole uno, diciamo, dai 48 ai 60, quelli di 58 e 60, di 48, quello che è, non si cercano, non si prendono una 66enne come Rosi, ne vogliono una più giovane. E quindi mettetevi il cuore in pace, è così. Sì, o restate single, oppure ciccia. Poi, a parte i casi singoli, ci possono essere i casi singoli. Qua parliamo di statistiche, ovviamente. Parliamo semplicemente di statistiche, fondamentalmente. Parliamo semplicemente di statistiche da questo punto di vista, eh? Non è che parliamo di... Non è che parliamo di... I casi singoli. Perché uno dice, ah, io ho 95 anni, ho trovato un uomo di 50. Va bene, tu hai 95 anni, hai trovato un uomo di 50, ma parliamo di statistiche, fondamentalmente. Lorenzo, ad esempio, che ha 21 anni, dice di avere, io non lo conosco, però supponiamo che sia vero quello che dice, che ha 21 anni e che cerca le donne di 35 e 50, mica le cerca per avere, per mettere su famiglia. Quando vorrà, se vorrà a mettere su famiglia, se ne cercherà una più giovane. Magari vorrà a mettere su famiglia, che ne so, a 35 anni, se ne cercherà una di 25. Adesso che ne ha 21, gli va bene quelle di 35 e 50 per farsi delle succulente, diciamo, sessioni, diciamo, a letto. E basta, fondamentalmente. O magari qualcuno ha da barbarle la pensione, lo stipendio, insomma, di avere una seconda mamma che lo prenda un po' in considerazione. Però è ovvio che quello è il motivo. Cioè, quindi, care donne di 50 anni, se trovate un ragazzo di 20 che viene con voi, non è che lo fa perché, diciamo, vuole mettere su famiglia con voi. Lo fa semplicemente perché vuole, come dire, come possiamo dire, usando un termine elegante, svuotarsi le palline da tennis. Ecco, vuole svuotarsi le palline da tennis, usando un termine elegante. Quindi ho cercato di usare un termine elegante. Nella migliore delle ipotesi vuole svuotarsi le palline da tennis. Nell'altra ipotesi vuole magari anche che la donna, che ne so, di preparare una cena, gli faccia un regalino, faccia questo, faccia quello, no? Questo è il concetto fondamentale. Poi, quindi, sono cambiate quindi le dinamiche sociali nel tempo, no? Le dinamiche delle relazioni sono cambiate. Anche le donne, oggi, più di ieri, danno priorità a se stesse, alla carriera, eccetera, eccetera, rispetto alla famiglia. Questo è un punto fondamentale. Questo è un punto fondamentale. Danno priorità alla famiglia. Non danno più tutta questa priorità alla famiglia. Danno più priorità, diciamo, a che cosa? Danno più priorità, magari, alla carriera, danno più priorità a altre cose. È innegabile. Una volta le donne mettevano la famiglia al primo posto nella loro vita. Oggi non è più così. Che vi piaccia o che non vi piaccia, le donne non mettono più tutte le donne e la famiglia al primo posto. Non mettono più la famiglia al primo posto. Mettono al primo posto, diciamo, una mummia 3. Ma che numero 3? La mummia 3. Ah, un mummio 3. Ah, sì. Ah, per una mummia 3 sarebbe il massimo. Io sono una mummia 3. Va bene. State zitti, va, minchioni. State zitti, va. Allora, comunque sia, questo è un altro punto fondamentale. I cambiamenti delle dinamiche sociali portano le donne a fare focus su altri aspetti della vita. Perché donne di 35-50 anni hanno altre priorità. Hanno la priorità alla carriera, agli amici, il divertimento, il tempo per se stesse. La famiglia avviene dopo. E questo è un dato di fatto, eh, comunque. È un dato di fatto. Ma non dico che è giusto o che è sbagliato. È la civiltà occidentale che è cambiata così. Moltissime donne tra 35-50 anni mettono in priorità la carriera, il divertimento, le uscite, gli amici, che ne so, il tempo per se stesse, fare le cose che gli piacciono. E ovviamente la famiglia, diciamoci la verità, è un impegno sia per gli uomini ma a maggior ragione per le donne. Perché, diciamoci la verità, io non so, vabbè, voi siete tutte oramai nonne, bisnonne, trisnonne. Però, però, diciamo, è evidente, no? Io immagino, io non ho avuto figli, ma immagino che allevare un figlio o due figli ti porti via comunque del tempo. Per una donna soprattutto, più che per un uomo. Esatto, i figli impegnano più una donna che un uomo. Diciamoci la verità, è così. Sì, perché una donna dovrà allattarli appena nati, no? Poi, certo, se c'è una famiglia e tutto, ovvio che il padre se ne occupa, ma soprattutto i primi anni dovrà allattarli, è la mamma che li guarda. Cioè, questo è un punto fatto, no? Una volta le donne facevano, ma ci sono anche pressioni sociali diverse, fondamentalmente. Questo avviene soprattutto nei paesi occidentali, perché ad esempio in Africa è completamente diverso. In Africa, io sentivo che in Africa una donna di 25 anni che non ha già almeno un figlio o due figli, viene considerata una poveraccia, una sfigata. La pressione sociale è questa, fondamentalmente, no? Nei paesi africani fanno anche tanti figli, non soltanto per questioni, dicono ignoranza, eccetera, ma proprio per una questione culturale. Perché la donna, la figura della donna, si identifica con la madre. Cioè, una donna, una donna che non diventa madre, salutiamo Pink, ha 25 anni, in Africa è considerata una fallita. Ha fallito la sua missione di vita. E questo è il punto fondamentale. La cultura africana è diversa dalla cultura, diciamo, è diversa dalla cultura europea. Oggi, che sia giusto o che non sia giusto, non lo so, ma molte donne tra i 35 e i 50 anni hanno diverse priorità. Perché spesso mettono come prima priorità la carriera, ma mettono anche il divertimento, gli amici. Non li va di cambiare pannolini, non li va di allevare, non li va di, diciamo, mettono come priorità i pannolini. Cioè, non mettono come priorità i pannolini, non mettono come priorità, diciamo, una cosa piuttosto che un'altra. Mettono come priorità la carriera, mettono come priorità altre cose. Quindi, questo è un punto fondamentale, no? E questo li può. Poi, diciamo, magari dopo i 50 anni, gli viene in mente di mettere su famiglia. Ma una donna con più di 50 anni, come dicevo, o si accontenta di un settantenne, oppure se non si accontenta di un settantenne, di un ottantenne, come dicevamo a Rosi, è difficile, ripeto, statisticamente, poi ci può essere il caso, il caso principale. Ma, che ne so, una donna di 55 anni, per fare un esempio, è difficile che trovi un coetaneo, perché un suo coetaneo vorrà la donna di 40, vorrà la donna di 35-40. Anche questo è giusto, non è giusto, però è un dato di fatto, è un dato di fatto, statisticamente, non sto parlando delle cose. Ovviamente, poi, diciamo, che sono successe anche delle cose. Certo, è pieno di donne che si sono messe in coppia con coetanei a 20 anni, a 25 anni, perché è ovvio che una donna di 20 anni, magari si può mettere in coppia con un ventenne, o con un trentenne, alle volte, ma difficilmente. Poi, ripeto, statisticamente è questo. Poi, anche i ritmi di vita differenti, no? Cioè, ovviamente, le donne come gli uomini, quando arrivano ai 50 anni, 35-50 anni, salutiamo Tania, che cosa fanno? Non hanno avuto figli, quindi hanno consolidato delle abitudini diverse, delle routine consolidate, no? Quindi, incontrare qualcuno con uno stile di vita compatibile, può essere difficile. Ma questo vale sia per gli uomini che per le donne, ovviamente, eh? Salutiamo anche Tania. Vale sia per gli uomini che per le donne. Cioè, spesso trovare persone... Vabbè, tu hai 21 anni, Lorenzo, però, se ti piacciono le donne di 35-50 anni, qua c'è pieno, eh? Non so, se cercate un Toy Boy di 21 anni, che verrà con voi per, diciamo, svuotarsi le paline da tennis, abbiamo Lorenzo. Lorenzo, io non so se ha 21 anni, però, qua c'è pieno di 50 anni, vogliose di... dar credito a un Toy Boy che vuole svuotarsi le paline da tennis. Perché, certo che il ragazzo di 20 anni, salutiamo Betty Kotic, cerca anche la 50enne, ma mica, ma mica per, ma mica per mettere su famiglia, eh? Cioè, la cerca per svuotarsi le paline da tennis a costo zero, fondamentalmente. O magari guadagnandoci anche qualcosa, eh? Magari guadagnandoci, non disdegna il fatto che la margassona faccia anche qualche regalino o qualcosa. E questo è ovvio. Poi, anche ritmi di vita differenti, diciamo. È difficile poi trovare a una certa età, è difficile trovare a una certa età, diciamo, persone con le quali creare una relazione che possa funzionare nel modo giusto, no? Poi, diciamoci che anche, chiaramente, ci può essere anche una mancanza di opportunità di incontro, no? Perché con l'aumento, diciamo, di queste chat, è più facile incontrare delle persone, ma è più facile incontrare anche le persone sbagliate. Perché ormai, diciamoci la verità, gli incontri, le conoscenze perlomeno avvengono online. Però, io vi dico che le statistiche dicono che nell'incontro online, trovare la persona giusta, statisticamente, dovete incontrare 500 per trovare quella giusta. E quindi hai voglia, prima che fai uno sbagliato, due sbagliato, tre sbagliato, 70 sbagliato, 90 sbagliato, 150 sbagliato, ti metti il cuore in pace, no? Perché, purtroppo, oggi, il fatto che gli incontri avvengono spesso online, certo, danno una facilità maggiore di possibilità di conoscere. Però, questa facilità maggiore di conoscere può essere, può essere, diciamo, può essere, diciamo, come possiamo dire, può essere un qualcosa che può andare bene. Vabbè, non c'è solo, c'è anche Chiara, ma no, ma c'è anche una ragazza di 23 anni, è comunque qua. Ogni tanto viene anche una ragazza di 23 anni, poi c'è la Sissi che comunque ha meno di 40, quindi per un ragazzo di 21, insomma, ci sono anche ragazze intorno ai 35, 40. C'è Chiara, c'è, beh, c'è Rosi che ormai lei ne ha 90. Poi c'è Chiara, c'è Sissi, c'è un'altra ragazza che forse si chiama Chiara pure lei. Una di 23 c'è, comunque, delle ragazze giovani ci sono, anche qua. Non sempre, però c'è qualcuna, c'è, per un 21enne che cerca la tardona, diciamo. Tardone, non eccessivamente tardone, ce ne sono qua, eh. Caro, caro Lorenzo, ci sono anche tardone sicuramente rispetto a te, ma non così tardone come anche under 40, diciamo, sotto i 40. Bene, quindi anche la mancanza di opportunità, secondo me, è un qualcosa, anche la mancanza di opportunità, è un qualcosa che, che secondo me, è dovuto soprattutto a questi meccanismi. Ecco, queste sono un po' le condizioni, insomma. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notizia.